Con Maria nel Magnificat capiamo che la nostra gioia è autentica a sé fondata nella misericordia di Dio e non nelle cose che ci circondano e ci illudono di donarci la felicità. E misericordia di Dio significa il suo perdono. Vuol dire lasciarci abbracciare da Dio, anzi, significa lasciare che ci porti in braccio come la pecorella smarrita. Lasciarci toccare da Lui significa essere coinvolti dell'amore di Cristo per la Chiesa fino a donare la vita in croce. Significa vivere i sacramenti. Dobbiamo con Maria ripetere ogni giorno che il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva, la piccolezza, l'incapacità, perché proprio allora che Dio ci salva, ci perdona, elevandoci a Lui, pur sapendo bene che non staremo con Lui per molto tempo, pur conoscendo la nostra congenita fragilità in costanza, la nostra pigrizia ad essere ardenti nell'amore, la nostra sordità a rispondere alla sua generosa chiamata, la nostra difficoltà ad accogliere il suo messaggio d'amore. Il Vangelo di questa domenica mostra la gratuità di Dio, del suo dono di amore. Chiediamo a Maria di insegnarci, in questi ultimi giorni prima del Natale, come si accoglie nella propria vita il Signore, nell'umiltà dello sguardo e nella semplicità del cuore, lasciando lontano le tentazioni dell'egoismo e della superbia che ci allontanano da Dio. La parola che oggi ci regala il Vangelo è abbracciare Dio.